Bene, allora possiamo iniziare, mi hanno detto che le operazioni di controllo sono state esplicate, quindi possiamo dare inizio a questa fresca... con questi fari è fantastico. Comunque siete degli eroi, desideranti di ascoltare qualcosa, spero di perlomeno di così, che possa non compiere il desiderio ma aumentarlo. Io ringrazio Trino Spiritualità per l'invito, l'amico Armando Buonaiuto, che non può essere presente ora perché ha un altro appuntamento al Circolo. Vorrei semplicemente con voi, così, un dialogo, piacerebbe dialogare, ma non si può, ma almeno lasciarvi, ecco, quello che desidero fare, lasciarvi degli spunti su questo tema grandioso di Trino Spiritualità di quest'anno, desideranti, e vorrei dividere la mia riflessione in due punti che riprende proprio il titolo del nostro incontro. Il primo sul desiderio infinito, quindi spenderò alcune parole sul desiderio, e sulla seconda parte, che è forse quella più provocante, quella più... che colpisce un po' di più, sull'inutilità di Dio. Sul termine desiderio si è detto e si è scritto molto, lo sapete, il festival stesso tenta di accostare questa parola complessa e lo fa accostando il tema del desiderio come fosse un diamante e ogni relazione, ogni incontro, ogni appuntamento in qualche modo cerca di sviscerare una faccia del diamante, consapevole che la verità del diamante rimarrà ancora inspiegata, cioè non colta nella sua intierezza, è come la verità in qualche modo. Spesso si accosta a desiderio termini come aspettativa, bisogno, aspirazione, sono tutti... appaiono come sinonimi della parola desiderio, ma se ci fermiamo un attimo con attenzione ci accorgiamo che non è così. Noi umani possiamo essere mossi dal desiderio ma anche dai bisogni, allora è necessario sviscerare cosa intendiamo per desiderio e cosa sono i bisogni, perché sarebbe tragico pensare che questi due termini possono essere sinonimi, appunto. Abbiamo sentito parlare anche del, chissà quante volte, dell'etimo di desiderio, un bel de sidus, de privativo, sidus che lo si fa, si indica ecco la stella, le stelle e quindi il cielo. Quindi desiderio, secondo questa etimologia un po' romantica, forse è mancanza di cielo. Però anche se è un etimo forse un po' romantico, è capace di rendere bene l'aspetto di mancanza, di privazione insito nel desiderio. A dirci che questo sentimento ha a che fare con il cielo. Il desiderio è un sentimento che ha a che fare con il cielo, ossia con qualcosa di vasto, di non finito e quindi di infinito. Siamo appunto desideranti. Siamo esseri, noi umani, siamo esseri desideranti. E allora, primo grande tema, il desiderio ha sempre a che fare con una mancanza, una privazione. potremmo dire, parafrasando qualcuno che probabilmente conoscete, beati gli insufficienti perché sapranno desiderare. Beati gli insufficienti perché sapranno desiderare. Beati gli innappagati, gli inquieti, i mancanti, gli scheggiati, gli imperfetti perché sapranno desiderare. Ecco, l'imperfetto credo che sia il tempo verbale dei desideranti. L'imperfetto è il verbo del desiderio. fino a quando saremo abitati da spazi di insufficienza possiamo permetterci di desiderare. I sazi, i pieni di sé, gli appagati, non sanno cosa possa essere desiderio perché avranno sempre a che fare solo con i bisogni. e allora quel personaggio cui ho accennato anche in maniera indiretta, Gesù di Nazareth, metteva in guardia un passaggio molto alto nel Vangelo di Luca quando recita quel bellissimo passaggio del discorso della pianura delle beatitudini a un certo punto dice in Luca 6,24 ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione e guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Qui la ricchezza non è da intendersi meramente quella materiale c'è una ricchezza altra che può fare anche molto danno. Secondo grande tema il desiderio ha a che fare con un altro aspetto che io definisco inquietante. Il desiderio è un sentimento inquietante. Perché? Perché se il desiderio è esperire una mancanza questa non potrà mai essere appagata altrimenti passiamo alla sazietà all'appagamento e quindi avremo a che fare con il bisogno. Serge Latouche dice in un suo testo il desiderio a differenza del bisogno non conosce sazietà e questo è l'aspetto inquietante del desiderio non conosce sazietà. Mentre il bisogno viene soddisfatto con la fruizione il godimento dell'oggetto agognato non così per il desiderio. Io credo che l'uomo non possa mai trovare ciò che è in grado di compiere il suo desiderio. Lo vedremo dopo neanche fosse un Dio. Probabilmente un gatto una volta consumato il suo cibo nella ciotola ha saziato il suo bisogno sentendosi appagato dico forse perché chissà cosa può rivelarci il mondo degli animali ma possiamo dire altrettanto dell'umano Aristotele nella sua politica ha un passaggio in cui scrive la natura del desiderio è di essere infinito e la maggior parte degli uomini vive per colmarlo la natura del desiderio è di essere infinito questo è inquietante e in qualche modo il mito di tantano in qualche modo Giacomo Leopardi mi fermo un attimo su Leopardi perché ha dei passaggi altissimi ho citato questo passo di Leopardi nelle due camminate meditative che abbiamo fatto per Teno Spiritualità nelle due settimane scorse due bellissime camminate in montagna Leopardi in un passo di una poesia che conoscete benissimo sopra il ritratto di una bella donna a un certo punto dice natura umana sta chiedendo alla natura umana natura umana or come se frale in tutto e vile se polve ed ombra sei tant'alto senti guardate che da brividi malgrado i 40 gradi qua dentro perché si domanda Leopardi sento tant'alto cioè perché sento in maniera così grande perché ho questo sentimento di desiderio se poi la mia natura umana è così è frale fragile è vile polvere ombra perché sento così prepotentemente Leopardi si sa è segnato da una malattia la malattia dell'infinito la grande un grande critico letterario dice ha intitolato un libro su Leopardi dicendo la malattia dell'infinito il tutto non gli basta ancora il tutto non gli basta ancora mi permetto di leggere un altro passo del poeta questa volta siamo nei pensieri nel sessantottesimo lui scrive anzi vi dico prima come chiave di lettura questo desiderio inappagato questa malattia dell'infinito di Leopardi questo sentire tant'alto Leopardi nei pensieri la chiama noia noia la noia e qui cito è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani la noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena né per così dire dalla terra intera considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio il numero e la mole maravigliosa dei mondi e trovare che tutto è poco è piccino alla capacità dell'animo proprio immaginarsi il numero dei mondi infiniti l'universo infinito e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che si fatto universo e sempre accusare le cose di insufficienza e di nullità e patire mancamento e voto e però noia pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga dalla natura umana perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e pochissimo o nulla agli altri animali questo concetto verrà ripreso da Moravia in un romanzo non va tanto più di moda e si cita poco Moravia io lo trovo un gigante della letteratura forse negli anni 80 era un pochino più si leggeva molto negli anni 70 80 nel fa dire un po' queste cose al protagonista della noia Dino in quel romanzo a questo punto facciamoci una domanda allora il desiderio l'essere desideranti questo sentimento che per Leopardi è il più alto dei sentimenti umani è supplizio o grandezza è supplizio o grandezza o è grandezza e supplizio il fatto di essere inappagato e inquietante e grandezza o limite io credo che dipenda da me da come vivo questo sentimento se il desiderio mi porta a conquistare il mondo per appagarmi allora è un supplizio perché più mangio e meno mi sazio lo intuì già Oscar Wilde Wilde scrive in questo mondo ci sono soltanto due tragedie sentite questo aforismo aforismo di Wilde grandioso come solo lui sa fare in una riga in questo mondo ci sono soltanto due tragedie una è non avere ciò che si desidera l'altra è ottenerlo e quest'ultima è la peggiore la vera tragedia la vera tragedia ottenere ciò che si desidera è una tragedia fosse anche un Dio mi chiedo a questo punto se la grandezza dell'uomo non stia piuttosto allora non tanto nel provare o meglio nel godere della realtà desiderata fosse pure un oggetto una situazione un corpo un affetto un amore un Dio che non sia piuttosto che la grandezza non stia piuttosto nella tensione nella tensione del desiderio provocata del desiderio possiamo parlare allora di desiderio senza conquista possiamo parlare di tensione senza abbracciare o di abbracciare senza pagarsi sta lì forse la grandezza di questo sentimento umano l'uomo del desiderio è l'uomo che cammina senza potersi mai fermare una sorta di ebreo errante questo è l'uomo del desiderio mi servo ancora della poesia perché qualcuno che mi conosce sa che la amo molto due poeti italiani ancora montale in una poesia splendida che è maestrale sentite cosa scrive montale sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va ne sosta mai perché tutte le immagini portano scritto più in là questa tra l'altro è stata una poesia data in un esame di italiano nella prova di italiano di qualche anno fa alla maturità questa poesia tutte le immagini portano scritto più in là è splendido cioè tu agogni di raggiungere desideri arrivi e ha una scritta quella realtà vai più in là vai più in là per cui è bene desiderare forse forse ci sta dicendo Montale è bene è il più alto dei sentimenti ci ha detto Leopardi anche appoggiarsi sulla realtà desiderata va bene ma senza sostare in quella realtà senza stare in quella realtà senza godere come fosse immaginate una scala e le scale servono per procedere oltre non per sostarci sopra tutte le cose portano scritto più in là e un altro poeta purtroppo non molto coltivato in Italia che è Clemente Rebora scrive qualcosa del genere in una poesia che si intitola Sacchi a terra per gli occhi scrive qualunque cosa tu faccia qualunque cosa tu dica o faccia c'è un grido dentro non è per questo non è per questo la ripeto perché merita qualunque cosa tu dica o faccia c'è un grido dentro non è per questo non è per questo mi rifaccio ancora forse per definire così per deformazione professionale mi rifaccio ancora a un altro grande poeta che si chiama Gesù di Nazareth in Luca 9 lui invita a chi lo vuole seguire è un passo anche molto conosciuto lui dice state attenti a non crearvi e a non rimanere prigionieri in tane e nidi tane e nidi consapevole che la vita è movimento trasformazione continua tensione in avanti e non godimento della meta raggiunta e a questo tale che gli chiede di seguirlo Gesù risponde lascia che i morti seppelliscano i loro morti guardate che questa frase è potentissima un grande psicanalista è Eugen Dreverman psicanalista tedesco ha scritto un libro di commento psicanalitico al Vangelo e ha delle pagine grandi su questa affermazione lascia che i morti seppelliscano i loro morti dico ancora una cosa su il desiderio poi passo alla seconda parte quella riguardante l'inutilità di Dio e qui ci sono certamente molti genitori io non lo sono però ci credo fermamente a questa cosa Gesù dice lasciate che i morti seppelliscano perché a questo tale forse è meglio dirlo perché se no non si capisce lui dice io ti seguo ma permettimi prima di seppellire mio padre permettimi prima di seppellirlo mio padre e un altro dice io ti seguo e lui dice ma guarda che chi mi segue non ha tane e nidi i nidi e le tane non bisogna essere psicanalisti richiama certamente l'utero il grembo il luogo di comfort ecco Gesù in qualche modo è un un analista ecco molto attento perché la psicanalisi oggi ci dice ci dice che i genitori rappresentano il passato psicologico i genitori rappresentano il nostro passato psicologico ecco per vivere in pienezza dovremmo imparare a chiudere con il desiderio del passato il passato è morto Gesù è come se avesse detto a questo tale lascia che il passato seppellisca il passato tu vivi il presente vivi ora abbeverati del momento del momento presente stai qui vivi l'ic et nunc essere psicologicamente legati al passato desiderare e che si ripetano magari eventi del passato è come vivere una sorta di cimitero cosa si fa in un cimitero due cose fondamentalmente seppellire i morti e riesumare cadaveri ma la vita è altrove se continui a riesumare i morti ossia il passato il presente ne verrà contaminato intorbitito e il futuro ne sarà inficiato avveleniamo i pozzi a forza di pensare rimpiangere il passato intorpidiamo le sorgenti e il futuro avrà sempre un sapore di cadavere ecco perché Gesù invita a non voltarsi indietro nessuno che ha messo mano l'aratro e poi si volge indietro e adatto per il regno di Dio ci sono tantissimi miti che ricordano rappresentano proprio l'eroe l'eroina che muoiono nel momento in cui si voltano indietro pensate soltanto per rimanere nel campo biblico pensate alla statua di sale che è appunto un grande mito biblico tutto ciò vale anche per il futuro psicologico desiderare sempre qualcosa che sta nel futuro pensando che proprio il compimento di questa realtà possa compiermi il cuore ancora una volta un'illusione sarebbe tutto il discorso della logica sacrificale stando sempre nel Vangelo Gesù è contro il digiuno Gesù è contro la pratica del digiuno ovviamente il digiuno rituale il digiuno religioso in qualche modo perché qual è il significato profondo del digiuno sacrificare qualcosa oggi per avere qualcosa domani fuori di metafora lettura psicanalitica Dreverman sacrificare vita adesso per averne altra e magari più abbondante domani non funziona così non c'è compimento dell'umano mi viene in mente ancora per stare in letteratura la roba diverga il suo grido disperato alla fine della vita roba mia vientene con me la logica sacrificale è sempre per la morte non per la vita la vita non si nutre di domani ma solo dell'oggi dell'adesso bello brutto che possa sembrare l'oggi deve essere per l'oggi certo questo è il desiderio l'essere desideranti è importante fondamentale come movimento spinta in avanti ma paradossalmente il compimento non sta nell'acquisizione abbiamo detto nel possesso della cosa desiderata può esserci ma può benissimo non esserci può esserci può essere abbracciata può essere goduta la realtà desiderata ma può benissimo non esserci il compimento dell'umano sta ancora altrove e qui mi introduco nella seconda parte e lo faccio con un passaggio mi affido ancora a un autore questa volta un autore altissimo lui si chiama Meister Eckhart Meister Eckhart sicuramente molti di voi lo conoscono un mistico del coevo di Dante tra l'altro domenicano frate domenicano e uno forse la più alta rappresentanza di tutta la mistica renana del tredicesimo secolo e fortunatamente abbiamo tantissimo materiale di Meister Eckhart sono dei sermoni che sono stati raccolti in volumi che io vi vi inviterei anche a leggere perché è una lettura al di là del credere o non credere quindi proprio a livello umano sono potentissimi nei sermoni tedeschi di Meister Eckhart troviamo questo questo passaggio ve lo leggo perché introduce molto meglio di quello che potrei fare io il tema sull'inutilità di Dio mistico e frate domenicano lui scrive abbandona ogni nuda apparenza rompi il guscio in modo che il nucleo divenga libero e porti frutto non rimanere nell'opera compiaciuta di sé e al modo perché tutto questo è scherno diabolico finché tu operi le tue opere per volere di Dio per il bene per l'onore la vita tranquilla la gioia l'interiorità la santità la ricompensa o il regno dei cieli il tuo tempio è un rumoroso mercato pieno di commercianti di clienti che vogliono esercitare con l'eterno Dio il loro egoistico acquisto ma egli non è a casa per tali bottegai egli dorme nel tempio perché l'anima ha ospiti stranieri chiassosi egli è Dio dell'eterno tu invece con le tue opere compiaciute sei legato al tempo al luogo al fine all'intenzione così come il frutto del matrimonio che è legato al tempo ha bisogno di nove mesi per maturare tu guardi con il tuo proprio io al modo del tuo agire cerchi e vuoi qualcosa con esso tu stesso e la tua ricompensa ricompensa ascoltate adesso cosa dice Eckhart tu pretendi di cercare Dio in verità fai di Dio una candela con la quale cerchi qualcos'altro e quando l'hai trovato getti via la candela tu abbassi Dio al ruolo di una vacca da latte che l'uomo custodisce per il proprio profitto per il latte per il formaggio tu fai come quelli che quando loro va bene lodano Dio e confidano in Lui come alcuni che dicono ho dieci moggi di grano e altrettanto abbondante vino quest'anno confido saldamente in Dio davvero hai grande fede ti dico io ma nel grano nel vino tu mercanteggi con il tuo Dio dai e fai perché ti restituisca il centupolo ma questo dare è piuttosto da chiamarsi chiedere finché opere le tue opere per moventi esteriori per il regno dei cieli per Dio o per la tua beatitudine non ti comporti rettamente poiché chi credi di raggiungere Dio nell'interiorità nella devozione o in un dolce rapimento più che presso il focolare o nella stalla agisce come uno che prendesse Dio gli avvolgesse la testa in un mantello e lo cacciasse sotto una panca io l'ho postata su facebook questo passaggio mi sono attirato anche un po' come capita spesso però lo trovo veramente cioè Eckhart che nel tredicesimo secolo diceva queste cose oggi non possiamo dire che si tratta Dio come una vacca da latte potremmo dire un distributore automatico ecco forse c'è più congeniale ecco io credo che questo passo allora ci dica veramente qualcosa sull'inutilità di Dio l'uomo di fede ci dice Eckhart è colui che neanche un Dio sarà mai in grado di colmare il suo sentimento di mancanza o se vogliamo il suo desiderio dinanzi a ciò che chiama Dio sente che ancora qualcosa di insufficiente perché se mai quel Dio compisse il suo desiderio avrebbe realizzato semplicemente il suo bisogno ma di Dio non si può avere bisogno perché non è un oggetto che soddisfi le nostre richieste le nostre domande ne faremo una vacca da latte se Dio compisse realizzasse ciò che domandiamo è semplicemente oggetto da utilizzare da prendere al bisogno un ansiolitico o più semplicemente un idolo di Dio dunque non possiamo avere bisogno semplicemente perché Dio non è la soddisfazione dei nostri bisogni e quindi deve essere del tutto Dio deve essere inutile perché un Dio utile è inutile semplicemente oggetto ecco perché dico sempre che è rischioso trincerarsi dietro una religione identificarsi con una religione che sbandiera spesso il suo Dio come la verità capace di compiere tutti i desideri del cuore umano risposta alla definitiva questione umana io credo fermamente che l'uomo di fede non appartenga a nessuna religione sa che il suo rapporto con la divinità non con un Dio perché la divinità infinitamente oltre Dio è questione di partecipazione non è Dio è un oggetto a cui ti puoi rivolgere perché appaghi il tuo desiderio mentre la divinità è ancora oltre e in questa divinità tu ne stai già partecipando non c'è più un Dio lassù in cielo a cui rivolgersi perché il cielo per l'uomo di fede è vuoto perché tu sei già dentro quella divinità tu sei già divino in qualche modo questo lo dice San Paolo negli Atti degli Apostoli non sono io che lo dico Atti 17 dice in Lui viviamo ci muoviamo e siamo in Lui ci muoviamo esistiamo e siamo come fossimo in quest'acqua è come se il pesce si chiedesse ma dove è l'acqua ci sei immerso non la vedi e chiedesse e invocasse un Dio che gli desse l'acqua ma ci stai già dentro cosa chiedi? quindi questo Dio la divinità la verità chiamiamola come vogliamo non è un oggetto da possedere o una definizione da proclamare è la vita è la vita quella che scorre che si trasforma che avanza che si compie la verità ha sempre a che fare con la fecondità ciò che può fiorire sbocciare è per questo che la divinità come la verità non possono essere definiti perché ogni definizione della verità è come una la sua tomba e nessuna cosa vivente può stare dentro la tomba ci possono stare solo cose morte i cadaveri dentro una tomba la verità è vita e la vita è strada via viaggio processo dinamico movimento ciò che ha come scopo la fecondità della persona che sta godendo di questa verità ecco perché Gesù forse in Giovanni dice io sono la via la strada il percorso cioè la verità e dunque la vita quindi l'uomo abitato dal desiderio il desiderante possiamo dire si relazionerà con la divinità e non con la religione consapevole che questa è infinitamente oltre ogni nome oltre ogni verità dogmatica ogni definizione oltre anche ogni rivelazione perché la divinità è come un fiume in piena io vi invito a pensare la divinità o ciascuno la chiami come vuole ma questo qualcosa che supera lo stesso Dio perché capite adesso non abbiamo tempo ma sarebbe interessante fare un'analisi filologica della parola Dio Dio è già connotato è già connotato l'ho detto l'altra sera ero a Verona a presentare un libro ho detto ma proviamo a pensare un attimo Dio è un nome proprio di persona no soprattutto maschile e definire Dio come maschio è un disastro perché abbiamo autorizzato autorizzato i maschi a sentirsi degli dei Dio questo è stato il grande danno di aver abusato di questo termine quindi la divinità è come un fiume in piena irruente e questo fiume scorre da sempre scorre da sempre non ha avuto origine non avrà fine e scorrerà per sempre ogni religione ogni tradizione spirituale ogni fede compreso il cristianesimo si è bagnata o si sta bagnando per un attimo in questo fiume ciò che noi chiamiamo religione corrisponde solo a un po' di acqua che è stata presa da questo fiume è messa in una cisterna va benissimo è un momento storico tutte le grandi religione sono nate hanno fatto la loro funzione va benissimo poi hanno esaurito quell'acqua in quella cisterna e poi si va avanti ne nascono altre e va benissimo inevitabile ma occorre tornare al fiume per trovare l'acqua che disseta vivifica e feconda ed è per questo che le religioni sorgono vivono abbiamo detto poi muoiono è fisiologico la religione le religioni sono sempre un mezzo mettiamocelo in testa mai il fine sempre il contenitore mai il fiume ecco allora perché credo che sia importante legare desiderio e il discorso teologico per non ingannarci la divinità che sta oltre la parola Dio l'immagine perché voi se noi avessimo tempo io chiedessi a tutti voi dammi una tua definizione di Dio io avrei 120 130 definizioni ma la divinità sta oltre vi leggo un passo degli Upanishad siamo cambiamo siamo nella letteratura antichissimi hindù c'è un passo dell'Ekena Upanishad che recita così sentite chi dice lo conosco Dio non lo conosce e anche chi dice non lo conosco non lo conosce lo conosce solo chi dice lo conosco eppure eppure non lo conosco fantastico ecco che è l'uomo del desiderio Dio la divinità non appaga la loro fame una volta per tutte ma da loro da mangiare e da bere giorno per giorno perché in Dio esiste solo il presente la fame e la sete della divinità dell'uomo diciamo il desiderio dell'umano ecco questo desiderio Dio non lo appaga è sempre soddisfatto la povertà la sua povertà la nostra povertà di desideranti è in realtà la nostra ricchezza e la nostra ricchezza è la nostra povertà C'è un saggio indiano lui è un monaco cristiano e sta vivendo vive è stato priore di un monastero camaldolese in India in un bellissimo libro sulle acque dell'oceano infinite quindi si chiama John Martin Kuvarapu lui indiano di origine fa questa riflessione dice chi è ha erroneamente tentato di definire la verità la divinità Dio non ha fame e sete di Dio chi pensa che Dio abbia rivelato ogni cosa e che non ci sia nient'altro che debba essere ancora rivelato non ha fame e sete della giustizia di Dio ogni religione dà una certa visione di Dio e della relazione tra Dio e l'umanità ogni religione dichiara di avere la pienezza della verità ma la verità è al di là di tutte le religioni la verità è al di là di tutti i nostri sistemi intellettuali di tutti i nostri sistemi teologici la verità supera persino le nostre scritture rivelate quindi e vado verso la conclusione l'uomo del desiderio i desideranti l'uomo dello spirito l'uomo che vive in profondità di sé nella propria sorgente che si bagna continuamente alla propria sorgente interiore sa che è chiamato a camminare a non sostare in alcuna vasca in nessuna cisterna ma al contempo sa che non deve raggiungere alcuna meta la grandissima un veil dice occhio eh non si dà alcuna scala per il cielo non si dà nessuna scala per il cielo la divinità non sta alla fine del tempo ma vi stiamo già navigando dentro questo è importante per il desiderante sa già che ne è impregnato il desiderante fa l'esperienza del metallo che è dentro al fuoco e tu a un certo punto non distingui più il metallo dal fuoco perché metallo infuocato questa questo è il rapporto con la divinità non il godimento di un oggetto che realizzi i tuoi piccoli desideri ma da desideranti impregnarsi imbeversi come una spugna della divinità ci sei già dentro ci sei già dentro mi viene in mente la disperata ricerca del bue da parte del contadino nella tradizione zen non lo trova non lo trova perché? perché a un certo punto scopre che lo sta cavalcando lo sta cavalcando quindi desideranti certo ma consapevoli che siamo già immersi in ciò che desideriamo e qui apro soltanto una parentese allora la preghiera perché più o meno so poi potessimo dare la voce una domanda sarebbe allora la preghiera che senso ha pregare Dio perché faccia finire la pandemia non mi esprimo perché è un incontro pubblico ecco abbiamo visto di tutto da un anno e mezzo abbiamo scritto anche un libro tra l'altro sulla preghiera in tempo di pandemia e ho esordito nella prefazione dicendo che l'immagine più incredibile è il parroco che affitta un elicottero e va dall'alto a benedire il suo piccolo villaggio il suo paesino così chiedendo che che possa cessare ecco ha senso pregare certo ha senso pregare ma non se il cielo adesso è vuoto come cito un un libro e se noi siamo già immersi se siamo già immersi in questa atmosfera in questo ambiente divino per citare Teilhard de Chardin allora non è domandare per avere ma è piuttosto un aprirsi per essere è una via di consapevolezza è uno stare è uno stare fermi e godere in colui in cui siamo ci muoviamo ed esistiamo forse il più grande viaggiatore è colui che compie il suo viaggio interiore come diceva Martin Buber non c'è viaggio più grande che quello verso la propria interiorità capite forse oggi facciamo fatica a entrare in quest'ottica perché non ci sono più i viaggiatori oggi noi facciamo soltanto più turismo anche spirituale e il turista è quello che va verso mete già note quindi a lui il viaggio non interessa anzi prima arriva meglio è i grandi viaggiatori dello spirito ma anche i grandi viaggiatori della storia per loro era importante il viaggio è nel viaggio che ti può succedere tutto pensate la grande poesia itaca di Cavafis forse Cavafis cito ancora per chiudere il monaco di prima John Martin Koubarapu sul desiderio dell'eternità lui dice il desiderio dell'eternità il desiderio dell'eternità del cielo di Dio di conquistare chissà cosa magari con dei sacrifici e il digiuno crea l'ego e l'ego crea la meta lo strumento il tempo e lo sforzo essere spiritualmente poveri quello diciamo all'inizio significa essere senza desideri vuoti nudi è il desiderio che rende ricchi è il desiderio che crea la dualità è il desiderio che crea il tempo che crea gli strumenti e le vie io credo che il grande danno di un certo cristianesimo che purtroppo è ancora molto presente che è quello di desiderare un Dio desiderare di andare in paradiso desiderare di evitare l'inferno e fare questo per questo e commerciare con Dio come fosse un mercante cosa che Gesù ha scacciato dal tempio sia nefasto in qualche modo questa logica ancora molto presente vi leggo e chiudo veramente un passo di una donna questa volta e mi spiace che ne ho citate poche ma e non la colgo perché facciamo facciamo ecco oggi è venerdì i musulmani sapete il giorno di festa i musulmani quindi prendo un passaggio dalla mistica sufi quindi della tradizione islamica la grande rabbi al adawiyah è una donna straordinaria che si è mossa tra l'ottavo e il nono secolo dopo Cristo sentite cosa dice le chiedono signora dove stai andando così di fretta cosa intendi fare la donna risponde sto andando in cielo per gettare il fuoco nel paradiso e versare l'acqua nell'inferno non resterà così né l'uno né l'altro e apparirà colui che si cerca estingue il paradiso e l'inferno allora coloro che li rendono culto volgeranno lo sguardo verso Dio senza speranza senza timore e lo serviranno così non ci fosse più speranza del paradiso e timore dell'inferno non l'adorerebbero forse come il verace non gli ubbidirebbero non ci fosse più speranza del paradiso e timore dell'inferno non fare il bene per non amare Dio non cercarlo non ogni intenzione nei suoi riguardi e farlo scomparire il grande Eckhart che alla fine della vita dice Dio liberami da Dio Dio liberami da Dio e allora quando non ci sarà più questo Dio finalmente farò esperienza di Dio quanto meno lo cerchi più lo trovi è il grande aforismo della mistica cristiana quanto meno lo cerchi più lo trovi perché ogni ogni scala è già saltata tu ne stai già facendo parte fermati diventa consapevole medita oserei dire insomma occorre cogliere l'insensatezza di dipendere da fonti esterne nel cercare la felicità ancorandosi al qualcosa di esterno fossero anche una religione fosse anche Dio lassù in cielo perché forse è proprio vero che ora il cielo è vuoto come ho detto prima e se c'è un Dio allora in Lui già ora ci muoviamo esistiamo e siamo grazie grazie a tutti grazie a tutti